buongiorno e benvenuti nel mio canale questo video lo faccio su richiesta di un commentatore che mi ha appunto domandato in un commento se fosse possibile fare un tutorial su come rendere compatibile un programma che è stato pensato per una versione precedente di windows 10 come appunto renderlo compatibile con windows 10 dunque in questo momento io magari non ho dei programmi in questo computer che sono molto vecchi comunque ce n'ho qualcuno vecchio per esempio ho vecchio il programma video to video che è un convertitore per video che è molto vecchio se la sua icona forse è presente nel desktop cliccherebbe sopra con il destro del mouse ma se non è presente come in questo caso bisogna aggiungerla come si fa aggiungerla si va su start e qui sulle applicazioni si cerca appunto video to video in questo caso sono in ordine alfabetico eccolo qua video to video questa è la cartella quindi clicco sul menu qui e questo è il file ex di video to video che lo prendo e lo sposto nel desktop questo modo e crea un collegamento quindi ho creato questo collegamento se con un doppio clic questo non funzionasse questo questo programma non funzionasse bisogna renderlo compatibile con windows 10 come si fa ci si clicca sopra con il destro del mouse nel menu contestuale come vedete c'è scritto c'è la propria opzione risoluzione dei programmi relativi alla compatibilità ci si clicca sopra vengono rilevati eventuali problemi ecco qua sono due opzioni prova impostazioni consigliate perché sono quelle che magari windows consiglia per questo programma oppure risoluzione dei problemi del programma se naturalmente uno all'inizio prova le impostazioni consigliate se funziona si lascia stare tutto così com'è se non funziona si passa alla seconda opzione cioè alla risoluzione dei problemi del programma ci si clicca sopra ecco qua bisogna inserire bisogna mettere la spunta su queste opzioni cioè il programma funzionava nelle versioni precedenti di windows ma in questa versione non può essere installato o eseguito prima opzione seconda opzione il programma viene aperto ma non viene visualizzato correttamente terza opzione il programma richiede autorizzazioni aggiuntive quarta opzione il problema non è incluso nell'elenco mettiamo questa opzione qua cioè che il programma funzionava nelle versioni precedenti di windows ma in questa versione non può essere installato o eseguito ci va su avanti e adesso si scegli la versione precedente in cui funzionava poniamo che funzionasse su windows 7 come vedete c'è anche windows 8 addirittura c'è windows vista windows windows isp oppure addirittura se uno non sa il programma poi funzionava mentre sconosciuta in questo caso mettiamo windows 7 si va su avanti e qui adesso si testa il programma se la modalità di compatibilità di windows con windows 7 permette al programma di funzionare si va su testa il programma il programma in effetti funziona io magari adesso potrei aggiungere un video qua per vedere se me lo converte aggiungo un video magari e lo converto che so i navi ok controllo che questo programma funzioni vado su converti la conversione in corso quindi ho controllato che il programma funziona chiudo il programma ritorno quindi visto che il test è andato bene vado su avanti ancora e posso salvare le impostazioni per questo programma si è tutto andato ok se invece non fosse andato ok il programma continuasse a non funzionare vado su no riprovo utilizzando altre impostazioni oppure su no segnale il problema a microsoft e cerco una soluzione online in questo caso io salvo le impostazioni per questo programma vengono salvate le impostazioni e la prossima volta non sarà necessario che io rifaccia il controllo di compatibilità perché come vedete programma incompatibile risolto adesso io chiudo e io posso fare un click un doppio clic qua su questa su questa icona del di video to video e lo posso aprire senza problemi e funzionerà perché ho risolto il problema di compatibilità questa è più o meno la linea da seguire il programma funziona correttamente sì il programma funziona correttamente questa è la linea da seguire per risolvere i problemi di compatibilità non è detto che ci si riesca sempre perché se il programma magari ha 20 anni mi sa che che è un po complicato però quasi sempre si riesce a risolvere se il programma funzionava per esempio in una versione precedente di windows di windows si può applicare la compatibilità alla versione precedente e in genere funziona ci sono dei casi in cui la risoluzione dei compiuti più recenti è molto più elevata di quella magari che supporta che veniva supportata dal programma vecchio e magari in questi casi può capitare che non funzioni ma in linea di massima si riesce sempre a risolvere questo è tutto alla prossima volta grazie